L'evoluzione delle tecnologie di comunicazione è stata davvero sorprendente nel corso degli anni. Dalla radio alla televisione, al cellulare e, nel futuro, al computer quantistico, abbiamo assistito a un progresso significativo nella trasmissione delle informazioni. La radio ha rivoluzionato la comunicazione consentendo la trasmissione di segnali audio attraverso le onde radio. Questo ha permesso alle persone di ascoltare programmi radiofonici e ricevere notizie e informazioni da tutto il mondo. Successivamente, la televisione ha introdotto la trasmissione di immagini in movimento e audio, offrendo un'esperienza visiva più coinvolgente. Le persone potevano guardare programmi televisivi, film e notiziari direttamente nel comfort delle proprie case. L'avvento dei telefoni cellulari ha portato la comunicazione a un livello completamente nuovo. I cellulari hanno reso possibile effettuare chiamate telefoniche ovunque ci si trovi, senza la necessità di una linea telefonica fissa. Inoltre, i cellulari hanno introdotto funzionalità come l'invio di messaggi di testo, la navigazione su internet e la fotocamera integrata. Ora, guardando al futuro, il computer quantistico promette di rivoluzionare ulteriormente il modo in cui elaboriamo le informazioni. Grazie alla loro capacità di eseguire calcoli complessi in modo molto più rapido rispetto ai computer tradizionali, i computer quantistici potrebbero aprire nuove possibilità nella risoluzione di problemi scientifici, matematici ed intelligenza artificiale. Tuttavia, è importante sottolineare che il computer quantistico è ancora in fase di sviluppo e ci vorrà del tempo prima che diventi una tecnologia ampiamente accessibile. Ci sono ancora molte sfide tecniche da superare, ma gli sforzi di ricerca e sviluppo in questo campo stanno progredendo rapidamente. In conclusione, l'evoluzione delle tecnologie di comunicazione, dalla radio alla televisione, al cellulare e, nel futuro, al computer quantistico, ha avuto un impatto significativo sulla nostra società e sul modo in cui ci connettiamo e condividiamo informazioni. Siamo entusiasti di vedere cosa ci riserverà il futuro delle tecnologie di comunicazione. Ecco una bibliografia sull'evoluzione delle tecnologie di comunicazione. 1. Castells, M, 1996, The Rise of the Network Society, The Information Age, Economy, Society, and Culture Volume U.A.L. Blackwell. 2. Reingold, H, 2000, Smart Mobs, The Next Social Revolution, Basic Books. 3. Standage, T, 1998, The Victorian Internet, The Remarkable Story of the Telegraph and the Centuries Online Pioneers, Walker Company. 4. Winston, B, 1998, Media Technology and Society, A History, From the Telegraph to Dean.otter.net, Routlegge. 5. N.A.E., D.E., 1997, Electrifying America, Social Mannings of New Technology, 18, 80, 19, 40. MIT Press. 6. Bencler, Y., 2006, The World of Networks, How Social Production Transforms Market and Freedom, Yale University Press. 7. Boed, D., E. Ellison, N., 2007. Social Network Cities, Definition, History, and Scholarship. Journal of Computer Mediated Communication, 13, 1, 210-230. 8. Jenkins, H., 2006. Convergence Culture, World and New Media Collide, New York University Press. 9. Reingold, H., 1993. The Virtual Community, Omesteading on the Electronic Frontier, Abison Wesley, 10. Turkle, S., 2011. Alone Together, Why You Expect More from Technology and Less from Each Other, Basic Books. Spero che questa bibliografia ti sia utile per approfondire l'argomento dell'evoluzione delle tecnologie di comunicazione.